Lo scrittore greco Esopo, vissuto nel VI secolo a.C., racconta di un leone che, impietosito dalle preghiere di un piccolo topo, rinuncia a mangiarlo. Proprio quel topolino che il re della foresta aveva deriso per le sue pretese di potergli essere utile in caso di bisogno, poi gli salva la vita, dopo che il felino era rimasto intrappolato nella rete di un cacciatore. Come dire che non è un'apparente inferiorità a rendere meno grande un amico. Agli antichi romani, invece, piaceva la storia di Androclo, uno schiavo fuggiasco condannato a morire nell'arena di un circo, divorato da bestie feroci. Il leone, che avrebbe dovuto mangiarselo vivo, invece si accuccia ai suoi piedi, perché tempo prima Androclo gli aveva curato una zampa ferita. Neanche a dirlo, l'imperatore libera lo schiavo e pure il leone, che rimangono amici per sempre. Leggende antiche sulla forza dell'amicizia che può talvolta salvare la vita. Per quanto strano possa sembrare, un uomo realmente vissuto in Francia nella seconda metà del Settecento scampa una condanna morte grazie a un insignificante scarafaggio. Non che l'insetto fosse legato da amicizia a quel signore, e il suo ruolo fu del tutto inconsapevole quanto salvifico. Ciao a tutti amici di Vanilla, oggi racconto una storia leggera, leggera perché lieto fine, pensate se fosse finita male, che ci riporta in un'epoca molto diversa da quella odierna, dove sentenze, giudici e condanne si facevano molto sul valore della persona e non sul reato in sé. Sì, perché l'epoca è quella della rivoluzione francese e il reato poteva essere soltanto il credo religioso o la professione che si esercitava. In quel carnaio che furono gli anni del terrore finirono alla ghigliottina migliaia di innocenti, fra i quali rischiava anche di perdere la testa tale Pierre Latrey, studioso, entomologo, ma soprattutto sacerdote cattolico. Prima di iniziare vi ricordo il like a fine video se vi è piaciuto e un click sul tasto iscriviti se ancora non fate parte dei nostri. Informazioni come queste potrebbero prima o dopo salvarvi la vita. E ora cominciamo! Pierre-André Latrey nasce illegittimo in una città della provincia francese e, seppure abbandonato dalla madre alla nascita, ha perlomeno la fortuna di essere mantenuto dal padre e poi da altri protettori che lo fanno studiare. Arriva a Parigi nel 1778, dove, oltre che studiare in seminario, se ne va in giro a catturare insetti, la sua grande passione. Di fatto Latrey diventerà un importante entomologo, attratto in particolar modo dagli artropodi. Il Jardin du Roi è la metà preferita delle sue passeggiate, dove impara anche a conoscere le piante e scopre un'altra branca delle scienze naturali che lo interessa la botanica. Diventa amico del naturalista Jean-Baptiste Lamarque che getta le basi della teoria evoluzionistica. Intanto però la Francia è scossa da venti di tempesta. La rivoluzione si abbatte sull'ancien regime. Cadono molte teste, più o meno nobili, comprese quelle dei sovrani Luigi XVI e Maria Antonietta. La monarchia cede il passo alla repubblica, non prima di aver visto crollare il simbolo dell'odiato potere regale, il carcere della Bastiglia. È il 14 luglio del 1789. Nel 1790 il governo rivoluzionario approva una legge della Costituzione Civile del Clero che di fatto subordina la Chiesa Cattolica francese al potere statale. I sacerdoti devono prestare giuramento di fedeltà allo Stato e quelli che si rifiutano rischiano di essere mandati nella colonia penale della Cayenne, che equivale a una condanna a morte. Pierre-André Latrey è un prete cattolico, anche se non ha mai esercitato funzioni di ministro della Chiesa, eppure rifiuta di prestare quel giuramento e viene così rinchiuso nel novembre del 1793 nel carcere di Bordeaux. Latrey, pur trovandosi in una fetida prigione e praticamente certo di fare una brutta fine, ancora si lascia entusiasmare dalla vista di un insetto che corre sul pavimento. Si mette carponi per osservare un raro scarabeo, e così lo trova il medico del carcere, a quattro zampe sulle lastre di pietra della cella sotterranea. Latrey raccoglie delicatamente l'insetto e lo mostra allo stupito dottore, dicendogli che si tratta di un insetto raro, chiamato Necrobia ruficollis, un coleotero carnivoro. Il medico, stupito da quella strana circostanza, decide di verificare se quel prigioniero dice la verità. Manda lo scarabeo a un naturalista del luogo, Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincennes, che ha solo 15 anni, ma è già esperto e per giunta conosce il lavoro e gli iscritti di Latrey. Il giovanissimo naturalista, che peraltro appartiene a una famiglia antirivoluzionaria, riesce in qualche modo a ottenere la liberazione dell'entomologo, e anche quella di un suo compagno di cella. Le cronache raccontano che nel giro di un mese tutti gli altri detenuti nello stesso carcere di Latrey erano morti. La scampa bella, quindi, Pierre-André Latrey, grazie a Bory de Saint-Vincennes, con il quale rimane amico per tutta la vita. Dopo la brutta avventura, Latrey si dedica allo studio e all'insegnamento, pubblica a sue spese il suo primo libro sugli insetti, ma nel 1797 incorre nuovamente nelle ire del regime rivoluzionario ed è messo agli arresti domiciliari e le sue opere sono bandite. Questa volta intervengono tre eminenti naturalisti, tra i quali c'è Lamarck, e nel giro di due anni Latrey inizia a lavorare al Mosè National di Stouard Naturel. Seguono decenni di ricerche incessanti che gli valgono la nomina a membro dell'Accademia delle Scienze e nel 1829 la cattedra di entomologia che era stata di Lamarck. Il suo contributo all'entomologia è stato di fondamentale importanza, in particolare per la classificazione naturale degli artropodi, la suddivisione in generi e per la definizione di specie-tipo. Latrey muore nel 1833, circa 43 anni dopo la sua incarcerazione, che equivaleva a una condanna morte e la società entomologica francese decide di dedicargli un piccolo monumento, un obelisco sistemato sulla sua tomba al cimitero Perlachaise ornato da diverse iscrizioni. La più significativa recita Necrobia ruficollis latreili salvator, ovvero Necrobia ruficollis salvatore di Latrey, quando si dice l'importanza di una specie. Io per oggi ho finito, ma se voi avete qualche aneddoto riguardo un animale che ha salvato in qualunque modo un essere umano, lasciatemelo qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video.